Santa Rita da Cascia, avvocata delle cause impossibili, con profondo rispetto e devozione, ci rivolgiamo a te, cercando conforto nei momenti di disperazione e guida nelle prove della vita. Tu che hai vissuto il dolore e la sofferenza con straordinaria pazienza e fede, ascolta la nostra supplica. Santa Rita, esempio di amore e di sacrificio, aiutaci a trovare la pace nel cuore quando tutto sembra perduto e a mantenere la speranza anche nelle circostanze più difficili. Come i petali della rosa che miracolosamente fiorirono nel tuo giardino invernale, fai sbocciare la speranza nei nostri cuori. Insegnaci a seguire il tuo esempio di perseveranza e a portare con coraggio la nostra croce quotidiana. Prega per noi affinché possiamo essere forti nelle tribolazioni e fiduciosi nella divina provvidenza. Intercedi per noi presso il Padre Celeste affinché possiamo ricevere le grazie di cui abbiamo bisogno per superare le sfide della vita. Guidaci a imitare la tua santità e a vivere nel servizio amorevole verso gli altri. Santa Rita, conforto degli afflitti, prega per noi che ci affidiamo alla tua protezione. Amen